Siamo con Denise di Terre da Vino. Allora, raccontaci un po' della tua esperienza con Social Network e Wordpress. Inizialmente sia Facebook, Twitter e Wordpress erano mai sconosciuti, poi ho dovuto impararvi per quanto riguarda il lavoro. Mi sono trovata molto bene, sono molto utili e Wordpress è facilissimo da usare. Denise, cosa ti aspetti da Blog Le Stelle Si Incontrano? Beh, sicuramente un punto che mi interessa particolarmente è il settore dell'agora, il laboratorio di pensiero, che può rendere vivo il blog in quanto assolutamente il confronto è la cosa che invoglia di più la gente a esprimere le proprie opinioni, a sentire soprattutto quelle degli altri. Per quanto riguarda il blog in generale penso che sia un'occasione in cui il vino si accosti ai piatti non solamente sulla tavola ma anche sul web.